E' stato inaugurato presso la sala lettura della biblioteca all'ingresso del polo centrale dell'Ateneo Messinese un punto di book sharing. Si tratta di un nuovo servizio promosso dall'associazione universitaria Atreiu che prevede lo scambio gratuito di libri tra utenti. Ogni singolo cittadino, quindi non solo lo studente, potrà recarsi presso il punto di book sharing, lasciare un proprio libro e prenderne un altro. Un sistema che si sta diffondendo rapidamente in numerose città, un modo tra l'altro per ritrovarsi una sorta di liberia pubblica sempre aggiornata e contesti sempre nuovi. Siamo qui nella biblioteca del polo centrale che da pochi mesi consente agli studenti di studiare dalle 8.30 alle 22, da lunedì alla domenica, cosa che prima fino a un anno fa sembrava qualcosa di anormale per la nostra città e per il nostro Ateneo. L'ultima iniziativa appunto di questa volta in questo segno è appunto quella del book sharing, ossia la possibilità di prendere e lasciare un libro per favorire la gratuita circolazione della cultura, quindi anche per chi purtroppo non ha delle possibilità economiche per potersi permettere qualche libro di testo o culturale, ha la possibilità mediante il semplice lascito di un libro che possiede di poterne ottenere un altro in cambio. Il servizio sarà disponibile tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle 8.30 alle 22.